13 luglio 2019, siamo all'agriturismo in Ipici. È una location freschissima e piena di colori perché è immersa nel verde, proprio ai piedi del Chianti e sopra le colline dell'Impruneta. Proprio qui quest'oggi, in questa location freschissima, convoleranno a nozze Francesco e Giulia. Noi del Centro Artistico Toscano siamo già pronti qua ad aspettarli e pronti ad animare, ad intrattenere i tanti ospiti presenti. Questa è la zona qua alle spalle dove verrà sviluppato la cena noziale, mentre dall'altra parte vi attenderà un favoloso aperitivo di benvenuto. Mentre nella spostazione che abbiamo visto da Kito, verrà sviluppato appunto la torta noziale e tutti i balli che potremmo, appunto, allegramente svolgere dopo. Silvia, ci siamo? Ci siamo. Stiamo attendendo gli sposi. Un saluto. Lei è Silvia, lei è Silvia, sono Daniele, mi raccomando, non è sbagliato. Non ci confondete, non ci confondete. Vi rallentiamo 13 luglio 2019, agriturismo Ipici, Francesco e Giulia, sposi! Ciao! Ciao!